Benvenuto al nuovo consigliere d'amministrazione del Calcio Catania, Sergio Gasparin, benvenuto a Catania, cosa ci dice direttore, contento? Sì, molto, innanzitutto desidero sentitamente ringraziare il Presidente Dottor Mino Toglirenti e la Sede dei Soci per questa nomina all'interno del Consiglio d'amministrazione di una società prestigiosa e importante come il Calcio Catania. Un saluto cordiale a tutti i collaboratori della società rossa-azzurra che non ho avuto ancora occasione di incontrare, agli organi di informazione e da tutti i tifosi catanesi che so bene con quanta passione ed attaccamento seguono le sorti della loro squadra. Al momento preferiscono ringraziare sull'altra dichiarazione sino ad una conferenza stanta che verrà convocata più avanti. E comunque è già al lavoro da oggi per il Catania, sì? Guardi, ci fermiamo qui col saluto e ringraziamento e poi più avanti ci sarà modo, tempo e occasione sicuramente di parlare un po' di tutto. Grazie. 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 Grazie.